Buon pomeriggio! Facciamo Lucaria oggi, l'accademia. No, il mago non c'è più. Ho già cambiato classe. L'NGPU non lo dobbiamo iniziare, sono già nella seconda zona. Io sto facendo fede e forza, così almeno mi diverto un po'. Ho concluso mago, ma ho modificato alcune cose del mago per avere più vita. Ho tolto degli oggetti e non messi altri, perché altrimenti gli ultimi tre boss non sarei mai riuscito a farli. In totale, quante ore ci si mette a finirlo? Dipende. Se sei uno che esplora tanto, ce ne metti molto più di cento. Io ero molto lento, perché io ogni stanza c'entravo col culo stretto, iniziavo a premere l'analogico, ma come un pazzo, per vedere se ci fossero nemici nascosti. Poi ogni stanza era, mi guardo dietro per vedere se ci sono dei nemici appesi, quindi ogni stanza mi durava un cinque minuti. E quindi non ho fatto neanche tutto in queste 130 ore. Mi ha dato fastidio il riutilizzo dei boss? No, allora, ce n'è tantissimo, però non mi hanno dato fastidio. Perché sono in un gioco talmente grande che, vabbè, cioè se vi dà fastidio lo capisco. Mi è piaciuto tantissimo, ma proprio tanto. Sono arrivato a un punto in cui è diventato come se fosse il mio gioco preferito. Ed è successo mentre giocavo, capito? Di solito tu un gioco lo finisci e poi hai il tuo giudizio. Cioè tu lo finisci e dici, wow, bellissimo, è stato incredibile. Come è stato per The Last of Us, che l'ho finito e ho detto, questo è uno dei più grandi capolavori della storia del... Red Dead Redemption, God of War, no, lo finisci e dici, questo è stato uno dei più grandi giochi che io abbia mai giocato in vita mia. Questo è successo circa a tre quarti di Elden Ring. E infatti sto continuando a giocarlo, eh, non è... non ho smesso. Ho finito il gioco, ho iniziato l'NCPU quasi subito. Ho fatto due robe nascoste e poi sono andato subito in NCPU. C'è da dire che è incredibile come un gioco ci sia durato un mese senza romperci i coglioni. Ecco, è un gioco che è rimasto stabilmente bello per un mese intero. Oggi facciamo Raya Lucaria, eh. Corriamo all'Accademia e voglio vedere in quanto tempo riusciamo a farla con la nuova build. Allora, è un po' buio. Andiamo... così mettiamo un po' di luce. Io ovviamente sto... sto iniziando gli spoiler, non ve lo dico, ma sono partiti gli spoiler. La build è questa. La build è questa. Dunque, la build è con l'arma Blasfema. Quest'arma qua, la lama Blasfema, ti recupera vita per ogni nemico sconfitto. Tra l'altro questa spada è stata nerfata perché prima ti recuperava vita per ogni nemico colpito, non ucciso. Dio! E mi è un po' troppo! E infatti l'hanno nerfata e hanno detto, no vabbè, quando lo uccidi, ah ok. Poi l'ho fatto survivability a merda. Quindi ho fatto lo scudo gigante dell'albero madre che recupera PV piano piano. E gli ho messo anche il talismano della rugiata benedetta, che ripristina PV. Aspetto due o tre minuti di esplorazione e ho recuperato tutta la vita. Poi ho questo qui, questo corno. Recupera veramente millimetrici punti abilità. E ti dà una riga piccola. Quindi adesso potrei questo, potrei sostituirlo. Però mi piace l'effetto che fa. Perché adesso sia ciucciando vita, uccidendo i nemici, sia ciucciando mana, fa un bel effetto. Viene rosso e blu. Vedi? È diventato un nuovo gioco. E poi ho l'armatura delle spoglie reali. Praticamente quando stai per morire circa, quando ti manca un colpo di vita, inizia a recuperare i PV. Quindi tutto insieme ho un buon recupero di vita. Non ho comprato l'armatura dei boss. No, non avevo rune. O livellavo o morivo. L'obiettivo adesso è fare Raya Lucaria. Occhio al drago, facciamo il drago. Eccolo qua, dovrebbe essere lì, vero? Eccolo là. Dunque, se lui dorme, mi sa che gli possiamo andare in faccia. Poi facciamo tutto. Non mi attaccate, insetti? Vediamo un po' quanto gli togliamo. Ah, non ho bevuto la pozione! Beh, e ho già finito il me perché non ho bevuto la pozione! Sono stupido in culo! Niente? Uuuuh, volevo colpirlo in testa, ma... Dove sei? Vabbè, niente. Che fai? C'è incastrato tutto. È morto! Lo scaling dell'NG più è bassino. Posso dire che... A me fa troppo ridere. Mi fanno troppo ridere le maschere dell'Accademia perché sono disperate. Quale finale hai scelto per l'NG? Ho scelto la quest di Ranni. A me interessava la quest delle stelle e l'ho fatto, ho finito il gioco così. Sono diventato marito e via. Ok, possiamo andare a Raya. Madò, a chi se la ricordamo l'Accademia? Mannaggia, vabbè, andiamo. Madò, questi due quanto mi hanno rotto il cazzo la prima volta che l'ho fatto con il mago. Perché non ero abbastanza potente. Giusto per... È salito in verticale, bellissimo! Vi prego di zoomare sul mana e guardare quante me ne recupera. Guardate il... IPA? Non serve a niente adesso che l'ho aumentato un po'. Madonna! Tra l'altro, l'evocazione di Ranni, io l'ho quasi persa. Io non sapevo che si dovesse evocare Ranni per finire il gioco, eh. L'avevo quasi persa l'evocazione. Porca puttana, perché è piccolina blu, in mezzo all'arena. Porca puttana! L'ho vista per culo. Se no io andavo avanti e finivo il gioco. Manca qualcosa qui. Manca qualcosa. Ogni tanto, quando tu non vai avanti nelle quest, per dire, soprattutto nella capitale, io vedevo dei messaggi di altri giocatori a mezzaluna intorno al niente. E dicevo, visioni di tiristezza, oppure visioni di amico. E da me non c'era nulla. Quindi vedevo queste mezzaluna di messaggi e ho detto, oh no, mi sono perso una quest. Che fai. Ah, fate male però, eh. Ma che ci muoio qua, eh. Voi pensate con una classe che era one shot. Voi pensate in questa cacata con una classe one shot. Allora, io mi sono perso tante cose, perché col mago era molto difficile esplorare. Verso la fine ho iniziato veramente tanto a piangere, perché avevo paura e poca voglia di esplorare, perché morivo subito. Ma me lo sono scelto io, quindi è colpa mia. Tutte le zone, cioè le zone innevate, per me, sono state la più grande frustrazione dei tempi di Dark Souls 1. Questo ve lo posso proprio, ve lo dico e ve lo confermo. È stato tanto, tanto duro. Mi sa che questa non ce l'avevo, sai, mi sa che questa non ce l'avevo, cometa. Bestia, ecco dov'era. Si va dietro? Oh, dietro il muro? Uh, e cosa mi dai tu? Eccolo. E non l'ho trovato col PG mago, eh, no. Devo andare a mano. Mamma mia, mamma mia. Fa troppo ridere che picchiano con i libri. Vai, fammi sognare. Beh, beh, niente male. Niente male, direi. Quasi bisciottato, quasi. C'è qualche segreto qui? Esci dalla porta subito adesso, ok. Ah, ma che bocca, ho la luna dietro, ma che bello. Non vedo un cazzo, però. Di qua? Uh, veramente di qua? Quanto videogioco giapponese questa cosa. Un corridoio vuoto con una protuberanza per parcheggiare le auto e fare i pipì. Con un baule in mezzo. Minchia! Riduce il tempo di... Ma porca di una puttana! Ma mi sono perso due degli oggetti più incredibili. Magari averli col mago, eh, infatti. Ma io ho esplorato tutto tanto bene. Però è comunque... Tu puoi esplorare ogni singolo granello di polvere. E magari in quel momento lì dici, che ore sono? E fai così, dici, ah, ok, ancora presto. E vai avanti. Ti sei perso un passaggio segreto. Una rientranza, un davanzale, una... Cioè, devi anche avere culo. Ah, dovevo attaccarti prima, scusami. Ah, ammazza, ok. Buonissimo. Bastardo! A sinistra c'è un posto segreto. Ah, lì! Scusami. Vabbè che in realtà lui non è fortissimo. Però è lui che mi dà fastidio. C'era un altro, lo sapevo! Dov'eri tu? Valedetto. Sapevo che c'era un altro. Che bello che posso resistere ai colpi. È incredibile questo gioco. Questa run. No, un altro! No, ti prego. Già sono andato in giro un sacco col primo. Questo che fa? Riduce leggermente il consumo di PA dalle stregonoline, ma incrementa i danni subiti. Eh, ma era molto meglio, perché io il mio era incantesimi, non serviva un cazzo, vedi? Ve lo faccio vedere giusto per giubilo. Oh, mamma mia. Fa flap flap con le ali, vedi? Si può andare. Si può andare. Puoi venire qui? Sei un deficiente. Sei un deficiente. È caduta! Dimmi che mi dà... No, è veramente morto. Ma c'hai le ali, coglione! E tu pure? Ehi! Ehi! Oh! Che fallo! Ok, scendo. Fammi vedere come è morta la gente. Ok, mi sa che è questo salto che dobbiamo fare, vero? Oh mio Dio, questo salto volete farmi fare? Allora dovevo veramente aprire la scorciatoia, ragazzi. Lo faccio dalla parte alta? Che faccio? Credo di dover saltare da qua a lì. Non c'è bisogno fermo. Se serve per avere un segreto, lo possiamo provare. Se serve per schippare, non conviene. Serve per prendere oggetti altrimenti imprendibili. Ma sono oggetti unici o sono le farfalle? Semicazzatine. Le molliamo lì, così non moriamo mai. Arma unica? Però che cos'è? Tipo una... La parmigiana? No. La balestra della luna. Ma chi le usa le balestre in questo gioco? La parmigiana? La par... La par... La parmigiana? Come si chiama par... La par... La... Aspetta! Come si chiama la parmigiana? Parsifal? Va bene. Mi fa troppo rin... Io farei un intero video dove guardo la gente morire. Che è successo? Chi è stato? Chi c'era? Una coli? Hai capito? È anche bello da fare perché puoi inventarti un po' le stronzate. Dove vado? Dio mio, che paura. Che è un attimo che ti spinga via uno spigolo e muori. Questo cos'era? Questa è la prima chiave magica. Ecco dove si trovava. Guarda che bella che si muove la spada. È bellissima. Dove vado adesso? Di qua? La chiave la trovi su un lampadario. Io non ci sono andato perché non volevo morire, mi sa. Oddio, sono due descrizioni diverse. Che poi, nella lore e nel mondo di Elden Ring, le descrizioni... Che cosa sono? È il pensiero del protagonista? O è effettivamente quello che c'è scritto nell'etichetta, tipo? Va bene. Comunque, che dico, il 300 e passa ora e ancora trovo cose che non conoscevo. È per quello ho voluto fare questa live qui. Eh, sta iniziando la primavera. Amici. Vado a dare la chiave al tipo? Ah, questo qua. Sì, eccolo qua. Tops. Entrata d'effetto. Ah! Morto? Ma povero, poverino. È sinergo e vabbè. Tanto verrà bocciato, ti immagini? Mi sei fatto un culo così per trovare la chiave e poi lo bocciano al primo anno e dicono no, vado a lavorare con mio zio in cantiere. No! Dai, mi sono quasi ammazzato per darti la chiave. Se metti la testa di Mago e fai le mozzi lumine. Ah, ti prego. Ma che, che bello, cazzo. Ma bellissimo! Si finisce la live con Renala? Direi proprio di sì. Andiamo... Prima finisci Tops? Ah, dove c'era la sede e la scrivania. Ok. Ah, giusto. Hai ragione. E voleva veramente fare economia e commercio. Ah! Sono i scintipedi dell'accademia e barriera di Tops. Oh, no. Ma perché è morto? Si sa perché è morto. Burn out. E mica è entrato da un giorno. Ah, giusto. Devo correre dritto di qua. Me lo ricordo un po' perché è quello che ho fatto per un sacco di volte quando dovevo andare a fare Renala col mago. Eh, guarda, quasi quasi mi potenzio adesso e bevo dopo. Bellissimo, cari... Dai che mi finisce il potenziamento. Vediamo se... Ce l'ho fatta... La seconda fase non me la ricordo. Oh, Dio, sì, me la ricordo! Me la ricordo, sì, scusami! L'ha detto, eh? L'ha detto, è la mamma di Ranni. Quindi mia suocera? Sì, nell'NG lei è effettivamente mia suocera. Eh, va bene. Abbiamo fatto. Uh! Va bene. Oh, in tempo in tempo abbiamo finito. Grazie mille per essere passati. Io devo chiuderlo bene perché ho sempre paura che non sincronizzi. Grazie mille per essere passati. Noi ci rivediamo mercoledì. Ciao belli! Grazie mille per essere passati.